La Rumba accelera per Milik, Milik ha capito il rischio che non gioca l'Europeo del prossimo anno, potrebbe anche cambiare idea per dare alla Roma che ci potrebbe essere questo scambio con Ander a Napoli, l'esterno offensivo e Milik a Napoli. Non escluderei che Napoli cedendo il 6-1, sia Unas e forse in prestito anche Lozano, essendo andato via anche il nostro grande Caicon, che potrebbe prendere due esterni sia Ander sia Bugatti, sarebbe veramente interessante. Dopo il Napoli probabilmente accelererà anche per Verutu quanto avrà ufficializzato la cessione quasi sicuramente di all'anno all'epoca per circa 37 milioni di euro, avremo veramente una bella squadra, almeno che appunto non possiamo inserire nella Rumba anche Muximovic, che non vuole rinnovare il contratto, con Verutu più con guaglio in favore della Rumba. Faremo a vedere che questi sono giorni importanti di calcio a mercato per decidere su quali giocatori puntare e poi dopo nei prossimi giorni sì, quanto saranno tutti d'accordo, i due procuratori, le due società tra quali i giocatori, mentre come contropartita le cifre si chiuderanno le trattative, quelle che sotto le direttive del nostro allenatore sono quelle più adatte per il nostro modo di gioca. Mettete un bel like a questo video, se non si è ancora iscritto al mio canale, e se volete vi iscrivetevi al mio canale. Una buona giornata alla vostra grande Caicon a Napoli, ciao a tutti. Ciao a tutti.